Sono Lorena Matic, è il terzo anno che partecipo a Maravè, questa rassegna di arte contemporanea internazionale diretta da Sabrina Zanier e quest'anno per il tema appunto Maravè e Ludo ho presentato un progetto legato al gioco, quindi come da ultimo nei miei progetti l'intento è quello di rendere protagonista l'altro quindi oggi a Lignano ho realizzato dei ritratti delle persone che potremo vedere il 6 di ottobre alla chiesa di San Francesco a Pordenone e alle persone stesse ho chiesto anche di raccontarmi qual è il gioco prediletto che facevano da piccoli quest'oggi in più abbiamo fatto anche una sorta di cadeau alle persone che si sono prestate per le fotografie abbiamo regalato loro l'immagine e con appunto ritornando sul gioco abbiamo chiesto loro di riportarcela per la tappa di febbraio che sarà nuovamente qui a Lignano grazie a tutti